un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento qua con fall guys come sempre ringrazio moderatori moderatrici del canale sostenitori e tutti coloro che naturalmente si iscrivono al canale twitch youtube ma che seguono anche gli altri miei canali social facebook instagram e vedremo un po di fare altro allora ragazzi oggi per la prima volta questo canale porterà in via ufficiale fall guys adesso naturalmente come sempre le partite vi ricordo che sono aperte a tutti ma bisogna avere almeno 15 anni d'età per poter partecipare detto questo ora vediamo un po le nuove opzioni allora utilizziamole tutte ok ringrazio ancora morino per aver partecipato avermi onorato di averlo avuto in partita e ringrazio soprattutto di avermi ospitato nella sua nel suo convoglio di eurotrack simulator 2 thank you mr morino hi everyone welcome to the stream first of all i want to say thank you so much to my moderators to friends followers and the supporters of the channel a special thanks goes to and people that follow my social media channels and they follow my youtube and my twitch channel while i am offline thank you so much everyone adieuze andтиsten and extinction Hihihiiiang Anciun Anciun Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. E Morino per avermi fatto scoprire questo giochino che è bellino, sembra semplice, sembra semplice ma non lo è a factos. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 volete potete anche entrare in partitozza ah prima però fatemi fare gli onori di casa eccolo qua moreno al nostro fanbus 08 a cui facciamo a tutte e due una bella scoccata di manello e tutti e tutti buongiorno a voi carissimi ovviamente se volete potete entrare in partita allora come era questo a perché giustamente sono tutti offline allora che cos'è a questi bisogna raggiungere nine ok tentiamo bene oggi ho fatto un paio di livelli ragazzi che sono stati veramente difficilotti è ottimo quindi fai sabato domenica lundes martes va bene a proposito com'è andata la segnalazione poi della della linea che hanno risposto a ok allora diciamo che riposo tattico voce pausa voce stamattina ragazzi è stata un po un'improvvisazione allora facciamo così moreno se vuoi puoi venire anche su discord o chiunque volesse può entrare in discord mi trovate nel nella stanzetta quattro piacere e ci si chi so yes oh yes come dice lo ciudad voilà chi vuole può entrare ah ok il trucco resta a cercare di stare il più possibile sotto il centro del dischetto voilà cosi non si capote ma ecco qua tu dire oh no ecco qua a chi Pharmacius a chi siamo soprattutto Exercise vedete più state sotto il fulcro e meno siete soggetti a farvi la catenina la catigna E tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, oh yes, no, lo sapevo, lo sapevo ragazzi, nash, e tu, e tu, e tu, nash, troppo di fritta. No, mannacce, è tutta colpa tua di aie aie, mannacce, mannacce, vai, una bella testata, vai, una bella testata di giornale, ho giornale, ho giornale capo, ho giornale capo, ho giornale capo. Ehi, dove si, dove, come, ui, qua ci siamo bloccati ragazzi, nash, guarda chi sto, guarda chi sto, no, mi sa che devo cambiare lato però, eh, no, non sembra cae. Sì, per il momento. Ah, qua sotto ci sono i tamburi, hai capito? Ci stanno i tamburi all'anno. Il tamburillo non si giù tu, o sarà ci potrù, o sarà ci potrù, o sarà ci potrù, te, un utratù. Mamma mia ragazzi, cosa ho fatto? Che ha già creato, qua giù, che ha già creato. E tu, e tu, e tu, o, mannacce, ho saluto. Ja, non è possibile. Nein, saca ci ben. Nein. Settimo. Vai, 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 dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nell'anile. No, guarda là. Non è possibile, vai giù. No, dai. Anzi, sono i primi dieci. Mannaggia. Tutta colpa del caffè che non ho preso stamattina, mannaggia. Il caffè tozzo. La sportellata. Mannaggia, ma stamattina sono tutte complicatucce qua. Oh, l'altra volta c'era, ieri, tutto liscio. C'era che altro... Ah, è andato tutto liscio. Mo' stamattina in solitario. Mannaggia. No, qua mi sa che non ho messo una qualification, però, eh. Non vado a sbagliare. Andiamo un po'. Mi sono qualificato. Oh, mamma, rogarmola. Oh, mamma, rogarmola. Ho sbagliato i miei calcoli. No. Eh, ci siamo in gand... Mannaggia. Ah, ma quella è compagna di squadra. Che c'è stava. Mannaggia. Eh, sta maschendo pazzo. Eh, guarda. Vai Dai, corrisci, corrisci Corrisci, corrisci Mannaccia, miseria Cioè, ma siamo sul finale Cioè, non lo so Oh, oh, ma adesso deve saltare Ora ho capito Salta, salta Eh, sì, domani Allora, questo mo' si abbassa No Ah, mi sono qualificato perché c'è la squadra, ragazzi Eh Grazie squadra Oh, moreno, se vuoi Portare qualche Stuzzichino qua Mentre fai La veredì Lo stuzzicozzo Ah, facci la miseria Così tanto costa questo Aperitivo Facci la miseria E se le pizze le porto io Peppe Niollo Quelle pizze diventano due Come direbbe il grande Totò Oh, qua mi sembra molto Pimboll, ovvero il Il Flipper E infatti Lo sapeva C'è pure Dove si scivola, ragazzi, eh Quindi ci ha qua Il nostro Non so dove si va Ah, ok L'ho visto Questo portare a qualcun altro Oh C'è l'ingastrato Stiff del dubbio Eh, il dubbio Lo faccio così Va giù Et voilà Oh Com'è che si fa qui Wow, ragazzi Wow, è giù Troppo bello Eh, ma qui sta scadendo il tempo Annasci Che trambata Marate Vai, corri Corrisci Corrisci Non ti fermare Corrisci 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 Non ti fermare Corrisci Vai Dai Su Muah No Forza Voglioni Non viene Vai Gelatino Pensaci Tu E tuzzo E tuzzo E tuzzo E tuzzo Ragazzi Ragazzi Guardate Che gelatino Gelatino Avanza Salta Il primo Ostacolo Ma ha preso Il primo Sandwich Ha preso Il secondo Sandwich Il gelatino Non si arrende Non si scioglie E meno con un grissino Salta il gelatino Salta il gelatino Sul gelatino Ci sei Ci sei quasi Ci sei quasi Gelatino 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 Si è qualificato Attimo Adesso passiamo a Grisù Il nostro draghetto Dai Grisù Non ti fermare Non ti fermare Grisù Che combinate Mamma mia Che trambate Pris Si è qualificato Gelatino Incredibile Ragazzi Incredibile Gelatino Ci ha fatto Qualificare Grazie Grazie Gelatino Ti piace Ti piace Ti piace Gelatino Gelatino L'hanno fatto Un po' come un sandwich Come il camillino Oh Ah Perché adesso Stai giocando Il compagno di squadra Yeah Allora Chi c'è Ah C'è l'altra amichetta Allora C'è Che so io Non grisù Ah no So io Voglio So proprio io Ma Qua che si deve fare Non ho capito Bisogna sopravvivere Ah ecco Opla Mannaggia Oh Mi so scanzato Nù papagno Esagerato Mi so scanzato Nù papagno Esagerato Vai divertiamoci Vai Ventilaturo Mori Tutti quanti qua Sei spiegato Ah ok Questi vanno Ad esclusione Ok Mori ma Quasi quasi Resto qua sotto Così Non mi vengono a rompere Le uova nel paniero Alla Tony Maneros Opla Opla Io me la sfilzo Me la scanzo Guarda questo Come Come è cattivozzo Guarda Volevi dirmi per forza A prendere Non ci prendi Non mi prendi Non mi prendi Tuzze 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 Opla Guarda come Guarda come sono cattivi Vai Non ti fermare il cilatozzo Non ti fermare il cilatozzo Non mi prendi Tuzze tuzze Guarda come sono Guardate come sono freddo Ma questo si gira Dice Oh Stazione Ma Ma Cacchia Non mi prendi Non mi prendi E tuzze E tuzze E tuzze E tuzze Ma tu guarda un po' questi Come sono cattivozzi Eccoli lì Oh Oh Opla No Non mi prendi Eh ma questo sta in cacchia Ma ce l'ha proprio con me Questi Io non lo so Oh ma ce l'ha Ce l'ha proprio con me Guarda Il dragozzo qua Ah c'è quel cattivozzo là Ragazzi Fatevi le scarpe fra di voi E vai Sopravvissuto Zio Ok Ok Morino Grazie ancora per essere passato Thank you so much Mister Morino E tuzze E tuzze Buona pausa Caffettoria Oh la prima vittoria Ottieni una medaglia d'argento 1 1 2 Oh oh la prima vittoria d'argento Equipaggia subito Voila Voila Le je soffi Confirmo E tuzze Oh Allora Quindi Prossimamente E sceliverà Ok spettacoli Multipli Sì vai Grande gelatino Che ci ha fatto qualificare Ragazzi E saluto E saluto Tutti i gelatai Mastro Pasticcieri Insomma Tutti coloro Che ci addolciscono Un poco La giornata Tutti coloro Che ci fanno Allegriare E tuzze E tuzze A tutta la categoria Della ristorazione Thank you so much Wajuni Poi se viene Zio Dabba Non vi preoccupate Ci accontentiamo Del caffettozzo Caffè Padacca Il caffè Cashback Caffè Padacca Il caffè Che spacca Esattamente Hai parlato Proto Bello E tuzze Tuzzo Yes Yes Uh Cirillo Mamma Calma Cirillo Scusami Buongiorno Compari Scusami Spero Sia ancora In live Cirillo Devi scusarmi Ma Ero Veramente Preso Qua Mamma Ne so Accorto La Mi stavano Correndo A pressa Quindi Non riuscivo A A darti Retta Qua Io direi Se possiamo Tagliamo Ecco Volevo tagliare Direttamente Per sotto Vedo che Tutti quanti Utilizzano Il mio stesso Il mio stesso Tecnico Bravi Bravi Ma voi Non sapete Che Che Le tuzze E tuzza Mento Mi Facci male La La Capa Oppala Allora Come Salta 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 Qui Non bisogna Mai Fermare Sì Stai Ficare Una coppa Basso Stai Ficare Una coppa Basso Stia Stia Facendo L'uvolo Allora Questo Sta Lontano Ok Vini Credo Vagamente Di aver Capito Più o Meno Vabbè Corri Oh Facci la miseria C'è il rino Cerondo E qua Che è Molto Molto Arrabbiato E tuz E tuz Come Sta E tuz Come Sta Oh Annaccio Vai Nell'acquapark Sì Nell'acquapark Direttamente Dall'Ice L'acquapark Cirillo 1974 Eh Aspetta Non sapevo Dove si è aperto Il parco Aquatico Non è scena Sono stato Fortunato Comunque A sto Ciro Eh Cirillo Qua A sto Giro Sono stato Veramente Fortunato Non so Com'è Che so Capita Direttamente Al traguarda Da questi Quaretta No Questi Della squadra Dai 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 Su 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 No Non si è Qualificato Lui Peccato Peccato Sesta Sesta La squadra Mamma mia Sul filo del rasoio Guagioni Siamo Siamo a ballare Si non te scerri mai Delle radici Catini Rispetti pure quelli Degli paesi Lontani Si non te scerri mai Delle radici Catini No 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 Si mu Salentini Dello Muno Cittadini E ragazzi Salento Lo sole Lo mare Lo mare Lo vento E naturalmente Saluto a tutti 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 Gli amici Salentini Saluto Tutti Gli amici E le amiche Pugliesi Ciao Agioni Ciao Agioni Un saluto Da Zio Tab E C'è 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 Facciamo Fallare E Tuzze Tuzze Qua ci fanno Male Vai No Mannaggia Perché Non l'ha Saltata Allora Questo Fra poco Arri Un match 13 Su 60 Da Quanto Ci arriva Yes Uppla No 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 Sali Salisci 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 No Che testata Quagioni Adesso Non è Una testata Che non è Quella Giornalistica Amma mia Siamo A Coda Tre Upp 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 No Trentacinque Umari Vuola Vai Adios Adios Guarda Questa Guarda Questa Quanto Mi doveva Comparire Davanti Sassicciotto Io Non lo so I don't Satch Mannaggia Quaranta Dai Me ne servono Altri Venti E ci Qualificamos Dai Dai No No Qualificammoci Bus Qui Qua c'è Cirillo Fate i bravi Vai Cirillo Pensaci Tu No 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 Mannaggia Vai Giù Ci sta Cirillo Non mi fate Fare Figuracce Ci sta Comparire Cirillo Fate i bravi Mannaggia 51 Forza 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 Cirillo Cirillo Ha detto Che non Mi fa Ma Che mi Manda A mare Con tutti i Pani No Non ce l'ho Fatta Squadra Qualcuno Della squadra Si è Qualificato Ho fatto La fine Del tappeto Cirillo 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 La trombettina Dove sta E tu La trombettina Dei L'occupare Cirillo La trombettina Ti portano Un sacco Fortuno Yes Oh Yes Ma Ma Ci sono io Qui sopra Non ci capite No Questo non sono io E infatti Vai Stella Vai Papo Natale Vinci Per noi Papo Natale Non ti fai male Papo Natale Ah Ora Perché si Si Stanno Inseguendo loro La barra Giustamente Vai Papo Natale Qua ci sta Con Figuracci Ah Ma Questo è Questo sta Ah Ah E' vero Perché questo qui Aumenta la velocità Giustamente Vai giù No Papo Natale Non ti fa buttare giù Dall'albero Eh Dal cam... Eh Dalla Dalla ruota Opla Bravo Papo Natale Il salto Della Non sai che ho tenne E chi non salta Non sente Suonare la trombettella Del pompare Cirillo 1974 Che vi invito Assolutamente A passare nel suo Canalotto A seguirlo Mi raccomando Fate i bravi Perché se Zio Ciccino Se ne accorge Che non seguite Al nostro Cirillo 1974 Poi Ci fa fare La fame Eh Beh Abbiamo salutato Il nostro Bampo Natale E tutti E tutti Oh yes Oh yes Livello 16 Non male Not bad Level 16 Seleziona Spettacolo Facciamo così Eh In solitaria Ma Andiamo Per il momento Sono Chi Sul Comunque Cirillo È proprio Bellino Sto giochino Mi hanno fatto Scoprire Mr. Moreno E Mr. Ah yeah Yeah Ovvero Aleasso Allegra Gia Ah yeah Yeah E devo essere Sincero Sembra Una stupida In cinema Non è Ha le sue Complessità Oh mamma mia Questi sono I cd Questi Mamma Romano Mai giù Questo è difficile Mi pare che Qua Ieri Aleasso Si è Qualificato Molto Molto Complicato Allora Io devo andare Se non ricordo male Di qua Esatto Esatto Là No Ok Mettiamoci qua Adesso Chi Non sa Tu Non sa Ci attendi Qui Non è Css Adesso Due Mamma mia Che palare Ma Mi ha Assordito Eh sì Va bene Mi sa Che Per come Va l'andazzo Ci rinunce Ragazzi Non è Possibile Non è Possibile Mettiamoci Qua E Che Cascido Ah Mannaggia Aspetta Qua Si deve Attraversare Esatto Nell'ingrocio Dei pali Delle pane Scusate Ecco Come ci fanno E lo sapevo Vai Non di fermare Non di fermare Perché Si ferma E' Perduto Eppure Eppure Annaggia Guarda Quella Che ha acceso Il gps Si è perduto Salutiamo Anche A mister GPS Vai Vai Corri 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 E' un mazzo a giù Ha fatto pure cia 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 in serio Non so nemmeno io come mi sono qualificato Trappola rotante Ahhhh Vediamo questo Questo è veramente complicato Molto molto complicato Questo è un po' complicato Questo parkour Mi... che... 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 Non si vuol dire Non mi posso fermare perchè chi si ferma è perduto è perduto è perduto dramma mamma mia io si 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 vai zio vai zio Dab non ti fermare dai 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 che zio Dab si sta qualificando dai 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 non ti fermare siiii zio Dab si è qualificato voglio un sesto voglio un sesto non so se mi spiego ragazzi bisogna essere veloci e capire dove andarsi e buttare su buongiorno principessa buongiorno a te buongiorno a te sono veramente onoratissimo di averti live questa mattina in questo momento con noi dovrebbe esserci grazie per il ride ovviamente eh si me l'hanno fatto conoscere alle asso il nostro morino e stamattina diciamo l'ho messo un po' su full guys ragazzi mi raccomando andate a seguire principe sarigno e soprattutto comportatevi bene perché se vengo a sapere che fate i filendoni poi vi tolgo a tutti quanti la razione di caffè patacca il caffè che spacca quindi fate i bravi quindi fate i bravi sono stato escluso? non mi vedo ma agli uni fate i bravi o altrimenti se vi comportate male chiamo a zio gigino vai da zio d'appo vai da zio d'appo vai da zia d'appo vai da zia d'appo vai da zio 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 d'appo buongiorno caspati come stai carissimo buongiorno a te e buona carica caffettoria qua in questo momento ci troviamo a doveci scantare o scampare insomma tutti questi oggettini principessa stamattina mi stai portando fortuna insieme anche al mitico Cirillo 1974 che mi sa mi sa che quando ho detto la mitica trombettina l'ha suonata quella trombettina là è una trombettina porta fortuna grande Cirillo 1974 e tuz e tuz amma mia ragazzi e io vago e io vago ah però questo è difficile questo è difficile è la prima volta che sono arrivato qua e quindi non so nemmeno dove arriverò bene todos rừghi il grande roire il dolce il dolce il dolce rilevo qua saltiamo sempre perchè noi siamo tuz uuuuuh ragazzi c'è un duo stamattina che mi sta facendo proprio vincere, grande Cirillo è arrivata quando è arrivata la nostra principessa Vaglioni, come si dice a Napoli sto scassando tutto il un grande applauso applausi medaglia d'oro a qua ci sta spostati tra gli anelli rotanti e cerca di non cadere nella melma, azzù, oh mamma mia grazie Cirillo, ti ho chiuso a metterlo wow mi sono distratto vai, 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 vai mister Verdino vai, su, 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 vai Verdino, non ti fermare, tu, gi- ah questo è verde oro, verde oro quindi è la bandiera del Brasile, Brasil, 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 può essere che... eh, può da stupore che questo giocatore sia brasiliano Brasile, 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 è tutto il Brasile, è tutto il Brasile ho perso la finale perché sono andato a mettere il diamantino accanto al nome della nostra principe serigno che naturalmente voi che state guardando questo video in replica invito assolutamente a passare nel suo canale e ad iscrivervi perché fa molte cose fa anche un po di irl ma porta anche dei pei giochini molto molto interessanti fra cui c'era anche un altro quello delle carte che ha portato qualche giorno fa il drago comunque ragazzi guaglione guaglione vi invito a passare nel canalozzo della nostra principessa regno fate i bravi no io qua non ci sarei mai riuscito però guarda uno di questi due le si spinge chi ha vinto a bravo bravo ottimo guarda com'è veloce con gli infraditi kudos allora che era kudos conferma a questo poi mi faranno mettere anche il costume quello lì pesante allora qua mille mille a quattro giorni ok ok tutto chiaro allora diamo un po 800 su 100 ok ma allora vediamo se posso caffè patacca il caffè che spacca grazie moreno per averci ricordato che il miglior caffè caffè patacca in collaborazione con caffè moreno interessante ma hanno i guantini i wand inferiore infraditi allora che altro c'era acqua diamo livello 18 ma stagione 1 ok va bene ritorniamo a farci questa bella partitozza in questo momento con noi in livello c'è moreno c'è anche c'è anche la nostra principessa regno c'è anche il nostro gaspari fa il bravo marracumannos salutiamo e ringraziamo come sempre moderatori moderatrici fern bus che è passato stamattina che anche lui finalmente forse si fa una giornata molto tranquilla speriamo bene tius e tius e per gli amici youtube naturalmente nella descrizione del video oltre a trovare tutti i miei canali social troverete anche il link per andare a visitare il canale youtube di moreno di asso e chi più ne ha più ne metta e tius e tius è un piacere girello 1974 con la squadra della cipolla c'è lui ma si sente che stiamo allo stadio mi sentito che ho una massaru chi non saltano di un risaggiotto guardate come io mi detenzio da tutti quanti quasi quasi me ne vado un po di qua ho visto che se ne vanno tutti quanti di la popola no no si 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 è giudato si 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 e tu se tu si stessi mai sono abbono fermare perché chi si ferma è perduto e tutti e tutti bravo hai fatto bene a scendere sotto mi ero proprio scordato di questa mappetta qua si 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 vai 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 dio cicino potere tizio cicino viene a me stavo quasi per accadere a basso si ma fa nuvole esagerato ma chi è che dice tutte queste bugie che stanno cadendo tutte queste no non mi sono qualificato vila ita carissimo buongiorno se non erro anche ita mi pare che abbia un canale youtube giusto ita e infatti mi sa che forse l'avrò intravisto da qualche parte oh qua ci vorrebbe un bel caffè un bel caffè un bel caffè ita 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 caffettozzo ita allora qua che si deve fare mi pare che non si deve cadere non mi ha detto la si credo credo vagamente oh 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 ah questo è quello che non si deve cadere nel fango oh ma questo è a bloccare ma non sono io no e infatti non sono io e infatti dicevi com'è possibile ida se vuoi puoi venire anche in partita moreno non te lo dico quindi se vuoi puoi venire anche senza parlay sean notte preoccupa s beh che moreno stasera deve fare una grande live s ragazzi e quindi stasera andiamo a fare un po il giretto dei vari canalozzi dei nostri amici delle nostre amiche a proposito che di voi vai live stasera così cerco di fare un po di un po di girozzi insomma come mio solito è abbastanza leggerino questo questo gioco ita era gratis su epic game se non ricordo ma non so se ancora gratis lo portava gratuito e poi ci sono anche delle dlc ragazzi che sinceramente questo giochino merita merita perché acchiappa moreno guarda che ho pensato di dartene 500 ma non fa niente girala girandola ah questo è lo stesso di prima ma mamma mia è la mamma mia è la eh si ragazzi allora muoveremo di qua perchè 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 ah questo va qua ah questo muovo il contrario ok quindi io mi ho andato di qui voilà il trucchetto è proprio quello allora stessa cosa qua dobbiamo andare in questo verso qui vedete nel verso del taglio stessa cosa di qua ci mettiamo no ecco qua allora qua mi pare che si salta no allora questo giro così quindi oppola oppola salta no vai 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 che prima oh mannaggia stavo quasi per qualificarmi per la prima volta in assoluto nage nage dai si 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 ma li fai menze pier vai 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 si ma sono qualificato a io ragazzi voi non potete capire la difficoltà di questo di questo livello qua non potete nemmeno immaginare non potete nemmeno immaginare morino sono sono cinquanta everons eh ragazzi un sacco di volte pure io sono stato buttato giù no vai arancione arancione stai sbagliando lato stai sbagliando lato vai che ci sei vai che ci sei nooo peccato arancione ah ma per quanto è una zaccatura e in finale c'è zio cicino buon ferragosto moreno e buona merenda ragazzi si è fatta l'ora e moreno quando si fa quest'ora qui va a preparare i suoi piatti succulenti e qui ovviamente ci facciamo una bella cadutina sicuramente e tuz e tuz e tuz via andiamo qua usato gaspa di puoi scrivere comunque non ti preoccupare puoi scrivere tranquillamente buongiorno a te carissimo scusami non sò se ti ho sommato Maybee Buongiorno a tutti! Ita 21.65 Vai Ita vai! Vediamo se riusciamo a qualificarci per la finale vi basterebbe anche il bronzo ma l'ora è impossibile ah questo è complicato questo è complicato questo è complicato questo è quello che cade giù ti tira su e poi vado direttamente giù questi mi spingono oppla vai questa è la porta girivole dell'albergo dell'hotel bisogna sapere indirizzarsi vai vai spingi 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 si scivola cogli un bradito qua non ti fermare dai non ti fermare zio da me se tu se si qualification grande Ita oh ragazzi principessa regno cirillo 1974 Moreno e Ita mi stanno portando fortuna stamattina ehm ehm vi devo vi devo mettere come porta chiave e porta fortuna ehm bravo cirillo che ha fatto una bella una bella suonata della trombettina centrato e in pieno cerca di non cadere nella melma perchè puzza malamenda sembra più ehm quindi noi siamo la confettura di si ruba la confettura la confettura la confettura di di fragola mamma mia quando ho fatto una colpita siiii mamma mia Ita ehm ma ce ne sta ancora un altro livello qua a faccia la miseria vediamo quale ci mettono nooo oh mamma mia oh mamma mia eh beh csss era la miseria due uno tutta era la sua nooo nooo vieni a prestare a me vieni a prestare a me nooo annasci vai 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 corri corri facciamoci il perimetro vai così nooo annasci vabbè vediamo se... annasci vabbè è stato un piacere questo è troppo difficile ragazzi qua se non mi sbaglio ieri o Ale o qualche altro amico che ha giocato nella sua nella sua partita ha vinto Ayo ci vuole veramente qua ci vuole fortuna ma anche bravura questo abbiamo di nooo pure il... pure l'amico di squadra oh vabbè Jamal sei stato bravo eh bravo Jamal eh infatti 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 avevo visto ieri che seguiva qua perchè poi ci sono quelli lì che vanno un po' a zonzo così come vabbè come vabbè allora mi ha dato qualcosa di nuovo qua quant'è che mi da ah quattro giorni ok quindi questi in effetti si bloccano a tempo quindi questo qua quattro giorni ok vediamo un po' costumi mettiamo questo qui limone fragola limone fragola nooo i guantini ci vogliono il volto così inferiore infraditos vamos e vediamo se riusciamo a fare tutto a me gli metto la gallinozza qua che più simpatica simpatica e vai nocciolini araghidi patatini accattatevi patatine levagate soltanto mille lire a busta avvicinatevi signore e signori tre rotte noccioline patatine e bibita in omaggio a soli 20 evros i 5 per cento i 5 evros se li prende morenos altri 5 se li prende i tals altri 5 se li prende aiaiaia a me mi rimangono i fruffuli nelle mani praticamente sementi di zanzare le mosche anche qui ragazzi c'è un trucchetto bisogna cercare di rimanere quanto più possibile sull'asse centrale evitare di spostarsi troppo lateralmente perchè quando il ripiano si inclina voi siete più o meno al centro e quindi di conseguenza non dovreste e ho sbagliato io proprio io che ci ho fatto il professore proprio che io ho fatto il professore e tuzze e tuzze è un dolore vai dai 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 vai cicino vai cicino vai zio cicino pensaci tu si adesso ci dirigeamo verso la parte centrale in obliquo sempre in obliquo mai andare tritto mi raccomando perchè altrimenti vi fate la cartella vi facete la cartella e tuzze e tuzze e tuzze yes yes vedete sempre in obliquo mai tritti altrimenti cadete la coppa basso e vi fate un bel bagnetto nella milma qua che ha detto pare che la milma qua ci sta vedete i guaggini lo facete raddrizzare poi opla sempre verso il centro vedete mai tritti sempre obliqui e tuz e tuzze vai su salta 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 Ezio da pace si è qualificato vai slizzi slizzi vediamo se ha capito il meccanismo bravo no no vai slizzi vediamo se ha capito aspetta la ecco vai no e beh che oh quanti sono fuori di sotto vai slizzi ah slizzi come me immatricola vai slizzi vai adesso vai adesso vai adesso vai adesso nooo ecco vedete l'errore quando non si va in oblique non si va verso i fulcro ovviamente le 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 superfici si ribaltano e quindi di conseguenza il trucchetto è quello mai tritti sempre in oblique su queste piattaforte su queste piattaforte mi raccomando Mark ci sta giocando ok vai 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 che ti può qualificare anche se non sei nella mia squadra vai minnaggia non ce l'ha fatta io ragazzi al massimo posso arrivare alla finale ma poi mi fermo lì in finale mettono sempre il giochetto complicatoci dai su su mi accontendo del bronzo eh mi basta solo il bronzo Cirillo grazie e io vado e io vado Cirillo grazie ancora per la compagnia appena finisco sta cosa ti faccio lo shoot out ti auguro una buona continuazione di giornata caro Cirillo e grazie ancora per la compagnia ci becchiamo da te se vai in live in questi giorni thank you so much mister Cirillo ho super bella sei buona Aspettiamo che si abbassa questo E oggi ho Amma mio Che testata ha preso Amma mio Vai sotto vai Ah Qua mi sa che è più complicatuccio Oh Ma questi ce l'hanno con me Io non lo so Oh Vai Vabbè il turbo Turbo boost No Vai 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 prendiamo la strada più breve qua ok bravo vai si vai 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 no no vai c'è per un andicchio allora facciamo lo shootout naturalmente a Cirillo naturalmente vi invito a passare nel suo canale e a seguirlo rifacciamo con lo shootout al mitico Fanbus ecco qua bravo Gingerozzo suona la trombetta la trombottella di la trombottella di Cirillo ti fa sentire bello Arzillo eh infatti ora me ne sono accorta allora qua abbandono lo spettacolo ovviamente scopri le novità ok supera qualsiasi round caspita già sono passati 5 mesi che era novembre mi sa o era dicembre quando venisti a era il giorno quel giorno stavo portando House Flipper e mi ricordo che mi iscrivesti un po' di cos'è mi ricordo bene a volte la memoria allora ricordo bene ottimo ottimo ah questa è complicata una volta soltanto ci ho provato a fare la riete ma non mi sono qualificato adesso dove sto in prima fila ehi tentiamo vediamo un po' se riusciamo a fare la riete buona si poi io direi di cambiare no sbagliato ok quindi io direi di andare ancora dritto oh 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 vai quasi quasi mi accudo e io direi che è questo no sbagliato tu lascivi di giochino eh è abbastanza complicato guarda come si affolla no vai 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 saltate saltate però niente cioè questi saltano come me no che peccato l'upecciottina non ce l'ha fatta ah 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 Naturalmente ringrazio di cuore tutti coloro che sostengono il canale tramite donazioni, gli abbonamenti, le sub, i bit a voi, va un particolare e speciale grazie per il vostro sostegno. Grazie a tutti i supportori del canale, persone che seguono il canale e facendo i sub, usb e i tics, grazie a tutti. Gaspari, ma puoi scrivere? Non so se stamattina Twitch ci sta dando problemi. Opa, facci la miseria, come sta andando veloce. E salta su, yuppiduu, yuppiduu, vai con lo yuppiduu, yuppiduu. Tuutze, tuutze, oh yes, oh yes. Yes, e sandwich. Devo verificare un po' di cose qua nella chat. Uè, ma sta lattina di succo di lupolo qua? Mamma mia, che ammazzare un bruno, che botta un bruno. Vai vai vai, yes vai, petzoo, petzoo, petzoo No, petzoo, ma è già mancato poco E' come se diverti? Hoppala Sat-wetch Sat-rozza-tozza-tozza no io non vedo niente fammi vedere qua allora qua mi dice che gaspari non mi esce nemmeno nella chat aspettate un attimo ma non lo vedo nemmeno più in chat poi dopo me lo vedo con calma aspettate un attimino what's the problem non lo vedo non lo vedo non lo vedo le stelline opla le goccele ragazzi spostiamoci un po' pure di là altrimenti opla mi ha colpito oh yes oh yes oh yes allora io non riesco a vederlo nemmeno eccolo qua allora vediamo un po' non mi dice che ci sono applicate delle azioni poi cerco di verificare un attimino offline ma qui mi dice che è liscio non ci sono alcune restrizioni ah questo è complicato ora mi accudo come mi ha consigliato prima ecco qua bravo bravo io ho saputo che fai dentro vabbè ora mi metto qua ah forse ho capito forse ho capito una cosa no no non l'ho proprio capito no non l'ho proprio capito ma allora questo dice fa così mannaggia ma si va oh è proprio su quello ahia dai bisogna vedere se Twitch ha applicato delle restrizioni poi mi guardo con calma un attimino ma non mi risultano delle azioni Gasperi non è che per caso per errore nella tua chat mi hai messo ignora vedi un po' perché può darsi pure che per errore hai applicata una una restrizione e quindi non riesco a visualizzare che io da parte mia insomma nel canale non c'è alcuna restrizione non ci sono limitazioni no non c'è alcuna restrizione qua vediamo un po' non ci sono restrizioni da parte mia qua e non lo so allora ragazzi io direi che la live termina qui naturalmente se volete potete fare un saltino oggi pomeriggio che molto probabilmente riporterò questo questo giochino ma può darsi anche che porterò il farming simulator 22 nella mappa zappa county vediamo un po' se lo riesco vedi un attimino gasperi prova adesso ho capito perché non vediamo i messaggi perché ci ha bannato e ci ha bloccato da ok no ma siccome lui in questo canale qua non è stato limitato un'ignore dice che l'utente è attivato opzione di sblocco infatti io ho fatto un ignore perché magari boh allora se adesso provo a scrivere a menzionarlo vedi non mi esce proprio può darsi che è uscito può darsi pure che adesso è uscito perché giustamente scucciate che non riesce a comunicare ma buono allora ragazzi io approfitto per ringraziare naturalmente anche tutti quanti voi che mi avete seguito ringrazio ita ringrazio caspari che per questione di tecniche non è riuscito ad interagire ringrazio cirillo 1974 ringrazio fermbus ringrazio morino e ringrazio ita per il bit scusatemi e volevo dire ringrazio coloro che in questi giorni stanno sostenendo il canale quando sono offline naturalmente vi ringrazio per le sub e quindi questo è qua allora vediamo un attimino chi c'è in live che così vediamo di fare un ride allora quindi gaspari c'è gaspari da un'occhiatina sulle applicazioni per caso per errore non lo so hai messo ignora oppure hai messo qualche altra restrizione allora adesso ce ne andiamo da ce ne andiamo da caiman che sta portando la formula 1 facciamo il ride e allora per voi che state guardando questo video in replica la programmazione continua ancora una volta vi ringrazio per il sostegno che avete dato al canale soprattutto a voi che lo fate quando il canale è in replica e allora grazie mille a tutti thank you so much e state buona you grazie a tutti 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 alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipiani bio.it ci trovi anche su facebook ed instagram alla faccia del bicarbonato di sodio ciao